Musica Musica Tutte le guardie lungo il muro della prigione sono dotate di rilevatore di movimenti. Sly non avrà modo di fuggire se non le eliminerò con il mio elicottero radiocomandato. Musica Sono proprio un genio, pappeo! Musica 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 La tua voce sensuale mi è mancata moltissimo. Risparga i commenti scherzosi per dopo. Vedi quel gancio sopra il treno? Sì. È la tua unica via di fuga. Salta e premi il tasto cerchio per afferrarlo. Poi dondola di ed entra nel treno. Ho già preparato un rifugio e ho appena inviato le sue coordinate GPS nel tuo binocom. Ci ritroveremo lì. Hai pensato proprio a tutto. È forse una novità? No, non lo è. Grazie per avermi tirato fuori. Beh, lo conosci il vecchio detto? Se gli amici non ti fanno uscire di prigione, che razza di amici sono? Mai sentite parole più sagge. Mago. Ok, ecco la situazione. Dopo ricerche approfondite nel database, ho scoperto che Murray è rinchiuso nel blocco D. Sarà difficile farlo uscire. Come sai, non è esattamente molto agile. Innanzitutto dovremmo portarlo in una cella di isolamento lontano dagli altri prigionieri. Poi mi devi procurare un campione dell'algoritmo di cifratura della Contessa. Non preoccuparti, ti spiego dopo. Terzo, ho bisogno che rubi alla Contessa alcune chiavi, ma stai attento alle sue guardie del corpo. Quarto, dovrai disattivare il suo robot d'attacco. No, Sly, dico sul serio. La Contessa ha un robot d'attacco che sembra un serbatoio dell'acqua. Completati tutti questi incarichi, potremo pensare al piano per tirare fuori il nostro grosso amico.